salve a tutti signori io sono lorenzo e questo mio canale esperton e benvenuti oggi andiamo a parlare della mia captur 1000 tce a gpl e voglio farvi vedere le nostre vacanze e quanti chilometri abbiamo fatto e quanto abbiamo consumato realmente siamo una famiglia quindi io mia moglie e due ragazzi di 17 13 anni più valigie quindi e climatizzatore sempre acceso bene quest'anno abbiamo deciso di andare in abruzzo e di preciso a vasto volevamo andare a vedere la costa dei trabocchi eccetera va bene quindi sono 642 chilometri per arrivare a vasto e quasi tutta autostrada faremo dell'età abbiamo fatto delle tappe fermarsi anche per fare il pieno di gpl e così vi faccio vedere anche le varie tappe quanto abbiamo consumato ogni tappa vasto è una bellissima città con un centro storico molto molto interessante e anche una bella spiaggia che si chiama marina di vasto da lì si vede tutta la costa dei trabocchi benissimo quindi prima di arrivare a vasto che siamo partiti alla mattina presto verso le 4 di mattina ci siamo fermati a senigallia anche qui partiamo da dal nostro paese 20 chilometri poi prendiamo l'autostrada di tutta autostrada da casa nostra a senigallia sono 390 chilometri dobbiamo far conto che 20 chilometri di strada normale tutto il resto autostrada sempre in quattro persone carichi di valigie e siamo arrivati a senigallia circa verso le sette e mezza più o meno adesso andiamo a vedere quando ho fatto il pieno senigallia che ora erano di preciso vabbè ma allora non importa tanto l'importante è quanto abbiamo consumato con la nostra macchina a gpl quindi vado ad aprire la mia applicazione fuelio dove registro tutti i dati del carburante e qui vedete che sono i dati fino adesso fino a quasi tre anni ormai di utilizzo ed ho una media di 12,75 chilometri al litro circa consumo medio carburante scusate 13,16 chilometri al litro ultimo consumo carburante è il 12,75 e una media di prezzo del 0,689 tra aumenti e diminuzioni benissimo siamo arrivati quindi sabato 2 settembre come vedete qui ed è avevo fatto 10 euro di rifornimento all'inizio prima di partire ma quello non lo consideriamo perché parto col pieno e arriviamo col pieno e vediamo quanto abbiamo consumato quindi andiamo a il 2 settembre quando siamo arrivati a senigallia e adesso vi faccio vedere anche l'orario che siamo arrivati vedete allora siamo a 50.926 chilometri e siamo partiti con 50.532 il prezzo al litro del carburante gpl era 0,729 siamo arrivati a spendere 21 euro e 45 a senigallia benissimo con una media di 13,39 chilometri al litro scusate di 13,39 chilometri con un litro di carburante molto buono secondo me visto il prezzo del gpl salutiamo la nostra bellissima senigallia con questa foto del calendario vivente diciamo così che ogni giorno cambiano era il 2 settembre 2023 come ho detto la mattina e andiamo a impostare il nostro navigatore su ortona bene come mettiamo ortona ci dice che c'è un incidente in autostrada quindi decidiamo di andare per la strada provinciale nella triatica ma era meglio lasciar perdere e andare per l'autostrada tutto bloccato va bene passiamo ancora il corner e rientriamo in autostrada quindi facciamo tutta l'autostrada per arrivare ad ortona all'ora di pranzo così abbiamo mangiato lì e dopo aver mangiato una delle specialità di ortona andiamo a visitare il suo castello e il paese e poi decidiamo appunto di partire verso la nostra destinazione che è vasto come vedete abbiamo messo appunto il navigatore su vasto ci indicava che erano 50 km sempre tutta autostrada per arrivare a vasto verso le quattro quasi del pomeriggio tre e mezzo del pomeriggio wow vasto è bellissima come tutto l'abruzzo sinceramente non c'era mai stato è veramente bello benissimo quindi siamo arrivati a fare rifornimento abbiamo speso 14 euro e 90 il prezzo al litro del GPL era 0,688 e abbiamo consumato 21 litri e 65 quindi molto molto bene abbiamo fatto i nostri bei chilometri e con una media di adesso andiamo a vedere 12,33 chilometri con un litro di GPL molto molto bene ricordo sempre in 4 sulla Captur con il climatizzatore acceso e tutte le valigie non so sinceramente quanto pesano le valigie un giorno voglio provare a vedere quanto pesano faccio scorrere un po' di immagini di che cosa abbiamo fatto durante questa settimana siamo andati a vedere anche lo zoo d'Abruzzo eccolo qua e siamo andati a vedere fare il San Stefano siamo andati a vedere Punta a Derci e bellissime spiagge bellissimi paesaggi bellissimo l'Abruzzo veramente soddisfatto di questa vacanza e un pezzo di cuore resta qui in Abruzzo bello bello veramente bene quindi dopo circa sei giorni di vacanza decidiamo di rientrare con sosta prima a Pesaro dove mio figlio voleva andare a mangiare la pizza Rossini che poi vi farò vedere bene quindi salutiamo il nostro bellissimo Abruzzo prima di partire rifacciamo il pieno di GPL in modo da arrivare fino a Pesaro che comunque sono un po' di chilometri e andiamo a fare appunto il pieno e vediamo quanto abbiamo consumato in questi giorni quindi vado giù a vedere il carburante ho speso 17 euro e 50 questo è ben giovedì scusate alle 10 34 giovedì 7 settembre e vediamo che appunto abbiamo una media di 11,6 chilometri al litro quindi perché abbiamo fatto molte colline montagne strade traffico eccetera comunque una buona media siamo quasi a 12 con un litro di GPL torno a ripetere benissimo quindi prendiamo sempre l'autostrada mettiamo il nostro navigatore su Pesaro dove ci fermiamo per una sosta anche per fare pranzo come ho detto e per mangiare la bellissima e buonissima pizza Rossini con la maionese siamo 293 chilometri e tre ore e dieci minuti circa comunque ci siamo fermati a Pesaro e poi da Pesaro siamo ripartiti verso San Donà di Piave dove abbiamo fatto il pieno vi metto San Donà di Piave perché abbiamo fatto il pieno lì e non so come mai l'applicazione mi ha fatto la somma di tutto quanto quindi da vasto direttamente fino a San Donà di Piave quindi mettiamo direttamente San Donà di Piave dal navigatore sono 621 chilometri adesso andiamo a vedere il pieno se non sbaglio sono 631 chilometri perché poi siamo andati fuori a Pesaro e siamo rientrati in autostrada per andare a casa benissimo come vedete sono 631 chilometri come vi dicevo una media di 12,83 chilometri con un litro di carburante e abbiamo consumato 34,39 euro molto molto bene quindi arriviamo alla fine ed è arrivata l'ora di fare quattro conti benissimo quindi abbiamo abbiamo adesso 52 mila e 81 chilometri avevamo all'inizio 50 mila e 532 abbiamo percorso ben 1549 chilometri te lo ripete sempre in quattro persone con il climatizzatore acceso e tutte le valigie benissimo adesso 1549 chilometri andiamo a fare la somma di quanti litri abbiamo consumato che sono 129,88 litri di gpl e abbiamo una media di quasi 12 chilometri con un litro beh a me sembra molto molto bene facendo conto che abbiamo fatto quasi tutta autostrada o strade di colline con sali scendi strette e il traffico quindi abbiamo un po di misto e la media di 12 chilometri con un litro abbiamo speso la bellezza di 88 euro e fatemi un po i conti quando avete speso con le vostre macchine a benzina lasciamo stare a gasolio ancora anche se facessimo 20 con un litro comunque penso che il doppio l'avremmo speso quindi abbiamo speso appunto 88 euro e adesso volevo vedere quant'è la la media del prezzo del carburante perché ho notato che verso il sud costa di più il gpl anche se siamo sempre fatto abbiamo sempre fatto il pieno fuori dell'autostrada quindi abbiamo una media di 0,67 euro al litro di carburante molto molto bene bene quindi siamo arrivati alla fine di questo video spero vi sia piaciuto che sia stato interessante sono dati reali vi lascio alcune immagini del sprendito abruzzo e delle marche bellissimo veramente bella questa vacanza e ci ritroveremo magari il prossimo anno per le prossime vacanze magari sempre con auto a gpl ma non la stessa capture perché qui a fine mese devo cambiarla bene signori grazie a tutti per avermi seguito fino a qua spero che vi iscriviate al mio canale basta solo premere iscriviti attivate il tasto delle notifiche e mettete un bel like al video grazie a tutti arrivederci grazie a tutti arrivederci